E' durato 13 ore l'intervento di soccorso iniziato ieri sera alle 23 per trarre in salvo due alpinisti lecchesi di Calolzio Cortecarenno bloccati sullo spigolo nord del Pizzo Badile in Valmasino. I due durante un'escursione in quota sono stati sorpresi da pioggia e grandine perdendo completamente l'orientamento. A far scattare l'allarme gli amici che li attendevano a valle dopo le difficoltà di comunicazione con i due lecchesi mentre da Brescia entrava in azione l'elicottero di Aureu abilitato al volo notturno da terra intervenivano gli uomini del soccorso alpino della Valmasino. I tecnici dopo quattro ore di cammino nel buio della notte raggiungevano i due sventurati appassionati di montagna riaccompagnandoli a valle stanchi ma illesi. L'intervento si è concluso a mezzogiorno.